Ci sei venuto a fare una visita? Bravo! Sono molto contento, sei un piacere di venerdì. È pulito. Senti, allora hai debuttato cinematograficamente? Ci faccio tu debut, sarò su tutta... Guarda, io sono un tuo ammiratore, perché oltre ad essere un professionista, sono anche pubblico. Quando vedo uno spettacolo in televisione o in teatro, io mi estraneo dal professionismo e giudico come il pubblico. Per diventare un comico bisogna nascerci. È proprio solo madre natura, perché non ci sono maestri. Madre natura che ci dota di questi requisiti atti a diventare un attore. La faccia, la personalità, la comunicativa e la simpatia. E tu di questi requisiti ce li hai tutti quanti. Tu poi hai un vantaggio sugli altri, su tutti, adesso che ti sento parlare. Cioè hai la lingua. Attenta, ti dico lingua e non dialetto, perché il napoletano è veramente una lingua.